Riccardo Nuti e Giulia Di Vita si dimettono dal gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e aderiscono a quello misto e a breve è possibile lì raggiunga anche Claudia Mannino. Dopo l'inchiesta sulle firme false riguardo le elezioni comunali del 2012 a Palermo, ecco che arriva il primo effetto concreto ai danni degli indagati. Ad annunciare il passaggio dei due parlamentari al gruppo misto questa mattina, il presidente di turno dell'Assemblea di Montecitorio, Simone Baldelli. Lo scorso venerdì era stato lo stesso leader del Movimento, Beppe Grillo, a chiedere l'allontanamento dei tre alla Camera dal gruppo. Ho chiesto ai capigruppo del Movimento 5 Stelle di raccogliere le firme dei parlamentari per indire la votazione dell'Assemblea, aveva dichiarato Grillo, necessaria per procedere alla sospensione temporanea dal gruppo parlamentare dei sospesi. L'inchiesta era giunta ad una svolta giusto la settimana scorsa. La sostituta procuratrice Claudia Ferrari aveva chiesto infatti rinvio a giudizio per i tre deputati, per i parlamentari regionali Claudia Larrocca e Giorgio Ciaccio, per gli attivisti Samantha Busalacchi, Pietro Salvino e Riccardo Ricciardi, e per i quattro candidati del 2012 Giuseppe Ippolito, Stefano Paradiso, Toni Ferrara e Alice Pantaleone, oltre che per l'ex militante Francesco Menallo e per il cancelliere Giovanni Scarpello che attestò l'autenticità delle firme.